Cos'è un pallone medicato? Attualmente è diventata una vera e propria alternativa allo stent. Lo stent è una piattaforma di metallo, qui vedete ingrandita o stampante 3D, è costituita da delle maglie che ricoprono e creano proprio un'impalcatura all'interno del vaso che viene trattato. Questo vale sia per i pazienti che vengono sottoposti all'angioplastica coronarica, ma anche per quelli sottoposti all'angioplastica periferica, ad esempio alle gambe o alle arterie carotidi. Questo è il gold standard e quello che viene raccomandato dalle linee guida internazionali. Però, come dicevo, dal 2007 esiste un'alternativa che è quella di rilasciare un farmaco che è stato fino a pochi anni fa soltanto il Paclitaxel, adesso si chiama anche Sirolimus, quindi sono questi due farmaci principali, che ha proprietà antiproliferative, cioè fa in modo che la placca che noi andiamo a trattare durante l'angioplastica non si riformi più. Quindi noi dilatiamo la lesione con un palloncino e rilasciamo contestualmente questo farmaco che blocca le cellule e fa sì che non si riformi una nuova placca aterosclerotica, il paziente non incorra in nuovi eventi schemici, infarti, angina pectoris, tutti i motivi per cui è arrivato nel nostro ospedale. È una tecnologia assolutamente sicura e protettiva. Noi la stiamo studiando perché pensiamo che molti pazienti possano beneficiare di qualcosa che sia diverso rispetto a mettere in metallo, perché è vero che gli stenti di ultima generazione sono, devo dire, dispositivi sicuri. Però abbiamo visto da tanti studi con un follow-up prolungato che il rischio di riocclusione degli stent e di eventi trombotici non è mai pari allo zero. Gli stenti di ora sono migliori rispetto ai primissimi stent, ma comunque il rischio di riocclusione c'è sempre e ogni anno c'è una percentuale variabile in base al tipo di lesione che va tra lo 0,6 e l'1,5% di riocclusione di quel vaso. Quindi il concetto alla base del pallone medicato è quello di rilasciare qualcosa che non porti all'impianto di corpi estranei dentro il paziente. Quindi è vero che nei primi 12, 16, 18 mesi il rischio di riocclusione è analogo, come abbiamo visto in vari studi, a quello degli stent medicati, ma la nostra ipotesi è che successivamente poi gli eventi tornino allo zero, perché non c'è il corpo estraneo rappresentato dal metallo. Un altro grosso vantaggio del pallone medicato è che non è richiesta una terapia antiaggregante forte come la si richiede per gli stent. Gli stent richiedono di fare un farmaco antiaggregante doppio per un periodo di tempo prolungato, proprio per evitare che si creino dei trombi che vadano a rioccludere il metallo stesso. Col pallone medicato questo non è più necessario. Noi diamo la duplice terapia antiaggregante per un solo mese e ci sono alcuni pazienti, come uno trattato questa mattina nel nostro laboratorio, che non la fanno neanche, perché sono a rischio di sanguinamento. Quindi voi capirete che il rischio di sanguinamento è un problema reale, attivo, probabilmente anche molti di voi ne soffrono. Se noi diamo al paziente un'alternativa e riduciamo il rischio di sviluppare eventi emorragici nel futuro, questo è veramente un bel vantaggio in più per i nostri pazienti.